Il gelato alla cipolla che abbiamo degustato è stato prodotto con le cipolle bio dell'azienda agricola Le Frisole di Giaveno, Borgata Sala. Roberto ci spiega il valore di produrre bio oggi nel nostro territorio. Sì, è importante innanzitutto perché c'è una presa di coscienza innanzitutto personale, è un percorso di vita che va oltre qualsiasi altro discorso che si possa fare in questo momento. L'aver ereditato e ci sono stati affidati dei terreni in una zona marginale di Giaveno, dove erano terreni che erano praticamente in buona parte abbandonati, ormai all'agricoltura intensiva perché erano appezzamenti piccoli e poco produttivi. Noi li abbiamo recuperati, ripuliti, spesso li abbiamo trasformati da discariche abusive, come è successo negli ultimi anni, da discariche abusive, li abbiamo messi in conversione e adesso sono diventati appezzamenti di terreno coltivati, riconosciuti e certificati bio. Coltiviamo, come ho già detto, circa 150 cultivar varietà di prodotti e il nostro territorio è molto vocato all'agricoltura, alla coltivazione della patata, ma non solo, al mais, ai cereali antichi e stiamo cercando sempre di più di valorizzare vecchie cultivar, cioè più antiche possibili. Siamo orgogliosi di questo, vogliamo continuare su questa strada, stiamo lavorando insieme a mia moglie e mia figlia che oggi ha 25 anni e stiamo cercando di promuovere in lungo e largo più che la nostra azienda, il nostro messaggio che vogliamo trasmettere è convincere altri a percorrere la stessa strada in modo da portare sulle tavole dei nostri concittadini, dei nostri amici, dei nostri clienti, insomma, prodotti sempre più sani e liberi soprattutto da qualsiasi agromafia che è uno dei mali anche che affligge l'agricoltura convenzionale a livello intensivo che spesso è sottoposta a incensanti richieste di ribasso dei prezzi a favore di catene, all'interno della catena di distribuzione spesso ci sono dei personaggi abbastanza potenti che hanno il potere economico e a discapito del lavoro dei contadini.